Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spadaro. Allora, oggi parliamo dei sorteggi della UEFA Champions League. Allora, a mezzogiorno sono uscite già le squadre che dovranno confrontarsi. La nostra benamata Juventus ha pescato il porto. Certo, abbiamo preso una squadra molto abbordabile. Quello che ho detto nei pronostici, secondo me prenderemo un abbordabile. Io ho detto il Borussia Mönchengladbach, invece no. È proprio il porto. Va meglio anche così, però. Certo, le squadre Materasso non ci sono in Champions. Sia ben chiaro. Porto-Juventus e Juventus-Porto mi ricordo un certo stagione, 16-17. Ai ottavi di finale abbiamo confrontato col Porto. Vincendo al Dragao 0-2 e poi al ritorno 1-0. Con un risultato totale di 3-0. Poi mi ricordo quella famosa finale di Cardiff, persa malamente contro il Real Madrid. Che hanno fatto rista nello spogliatoio dove è nell'intervallo, certo. Poi parliamo anche delle italiane. Alla Lazio! Peggio gli è capitato. Ha pescato il Bayern Monaco. Il Bayern München. Già la Lazio è fuori. Ma se la può giocare, tanto le partite vanno sempre giocate. Il Bayern Monaco è già all'80% qualificato. La Juventus è certo, ce la può fare col Porto. Può passare ai quarti. Poi l'altra italiana. L'Atalanta è stata pescata per ultima. Ha pescato il Real Madrid. Atalanta-Real Madrid. Se la può giocare, però. Certo, il Real è, voi di te, il Real è più scarso degli ultimi 30 anni. Con l'Inter già ci ha vinto due volte. Che conte fa bene in Europa, lo so bene. E l'Inter cosa ha pescato in Champions? La divano Kiev? Oh, forse ha pescato il piano B. Troppo divertente. A parte gli scherzi, va. Gli unici a far ridere. L'unica squadra a essere fuori da tutte le coppie europee è l'Inter. La propria barzelletta del mondo. Sto morendo, va. Poi parliamo delle altre squadre. Altre cinque partite. Atletico Madrid-Celsi. Eh, sono alla pari questa squadra. Questa partita forse alla pari. Barcellona-Paris-Saint-Germain. Quel famoso 4-0 a Parigi del Paris-Saint-Germain. E poi un famoso 6-1 del Barcellona. Una grande remuntata, eh. Me lo ricordo, va. Poi il Gladbach che pesca il City. La solita fortuna del City. Poi l'Ipsia-Liverpool. Pure interessante, va. Sì, il Liverpool è al 60% superiore all'Ipsia. Ma se la possono giocare entrambe, va. Ha buttato fuori lo United e l'Ipsia. Questa è vera. Una squadra inglese l'ha buttata fuori. Siviglia-Dortmund. Eh, interessante direi Siviglia-Dortmund. Allora. Cosa... Beh, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito a che lasciate un mi piace al video. Di commentare qua sotto. Di cosa ne pensate sui sorteggi della Champions. Condividete anche il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vedo molto presto per i miei prossimi video. Testa al campionato. E forza Juve! Ciao belli!